Si tratta soltanto, a quanto noi sappiamo, di ritardi da parte del sistema meccanizzato regionale che è passata una nuova fase, un nuovo modello di pagamenti e che richiedono dei tempi più lunghi, soprattutto nella prima fase di attivazione. Questioni e procedure tecniche e informatizzate regionali che non possono certamente compromettere, pur essendo consapevoli delle esigenze di un imprenditore che ha investito, che sta lavorando, che sta anticipando, ma che non possono compromettere l'esito della struttura. Dunque solo un malinteso generato da una modifica nel sistema dei pagamenti telematizzato da parte della regione Sicilia che comporta qualche ritardo, lo assicura il sindaco Giuseppe Nicosia che garantisce sulla certezza dei finanziamenti. Certezza che trova conferma negli impegni assunti dal presidente Crocette e dalla giunta regionale a Vittoria, quando il sindaco Nicosia ha chiesto di poter utilizzare le somme del ribasto d'asta per continuare i lavori, mentre per il completamento della struttura è stato chiesto un finanziamento di circa 20 milioni di euro. In quell'occasione il presidente Crocette ha assicurato che le somme per il completamento saranno inserite nella prossima programmazione. Che l'autoporto debba andare avanti lo testimoni anche il fatto che ne abbiamo parlato con la giunta regionale e alla quale io ho chiesto, semmai non soltanto, di utilizzare anche, di dedicare alla città di Vittoria e all'autoporto le somme del ribasso d'asta, ossia circa 4 milioni di euro, ma anzi di reperire le risorse per il completamento di tutto il progetto dell'autoporto e quindi altri circa 22 milioni di euro. E da parte della giunta regionale ho avuto assicurazioni che nella programmazione 2014 saranno inserite anche queste innovazioni e questo completamento di questa struttura importantissima. Quindi da questo punto di vista riceviamo noi segnali e incoraggiamenti ad andare avanti piuttosto che a fermare i lavori. Solo ieri l'impresa che sta eseguendo i lavori di realizzazione del primo stralcio dell'autoporto, il consorzio Galileo, aveva annunciato di voler chiudere i canceri del cantiere e di mandare a casa gli operai perché la regione aveva ritirato i soldi necessari per pagare i lavoratori. Notizia che ha preso dall'ufficio ragioneria dove si era recato per incassare il mandato. Avendo due mensilità da pagare agli operai, dice in Gallina, sono costretto a chiudere le imprese e mandarli a casa. Anche per questo l'assessore Dezio dice di essere a fianco dell'impresa e disposto ad andare anche a Palermo per vedere di trovare una soluzione. Al contempo preciso il finanziamento c'è e da parte degli uffici comunali non è stato compiuto nessun errore.